E' necessario rifare l'intonaco se ho problemi di muffa? Ciao, sono Giuseppe Lacchiappamuffe con questo meraviglioso sole. Al primo giorno di autunno parliamo dei danni che può fare la muffa, oltre che alla nostra salute, al nostro portafoglio, anche alle nostre pareti. Per mia esperienza, io non andrei a distruggere una parete che ha soltanto qualche macchia di muffa, ma la vernice di sotto è ben ancorata. Però ognuno faccia le proprie scelte. Ricordatevi che se grattate la muffa a secco, spaccate tutto e sollevate un polverone, state anche diffondendo le spore della muffa e ve le respirate. Quindi prestate attenzione. In quali casi dovrei quindi rifare l'intonaco? Io direi quando la muffa ha davvero creato dei danni visibili sulla superficie. Quindi vedete la vernice gonfiata e non sarebbe molto saggio andare a mettere dei prodotti antimuffa su un muro che cade a pezzi. Ma questo vale per qualsiasi problematica in casa, non soltanto per la muffa. Molte volte ho notato che l'intonaco si sgretola per colpa dell'eccesso di umidità e molte volte si sgretola per un utilizzo compulsivo di candeggina per pulire. Guardate queste foto. In conclusione, se hai un problema di muffa, il tuo primo pensiero è mettere qualcosa sulla muffa che la neutralizzi. Poi a seconda dell'origine del problema, utilizzerai il ciclo di pittura adeguato. Una pittura antimuffa se un problema è lieve, una pittura anticondensa se è un problema di isolamento termico, magari negli angoli. Ma l'importante è bloccare il fenomeno sul nascere. L'unico caso in cui dovresti rifare l'intonaco è quando il muro si è davvero consumato, magari perché c'era un armadio che per tanti anni ha covato e ha fatto da effetto sauna sulla parete. E allora lì, ripeto, non si può fare qualsiasi cosa finché l'intonaco non è stato riparato. Permettimi però l'ultimo consiglio. Non grattate mai l'intonaco con la muffa sopra se prima non gli avete passato il vostro liquido antimuffa per un motivo molto semplice e intuibile, perché andreste a diffondere le spore della muffa che, ripeto, vi respirate e finirebbero nelle altre stanze. Se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace, condividi, iscriviti al canale, ma soprattutto utilizza come sempre i commenti per fare domande o condividere qualche buona esperienza contro la muffa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Giuseppe e basta muffa!